Cennaro Borrelli, il bomber del Pescara Calcio, capocannoniere nel campionato di Primavera 2. Nonostante la sconfitta, una stagione che per te, ma per tutti i tuoi compagni, può dirsi assolutamente positiva. Sì, è stata una stagione assolutamente indimenticabile, che si è conclusa con la vittoria del Girone. Sono molto felice di essere il capocannoniere del campionato di Primavera 2, però questo titolo di capocannoniere è anche merito della squadra che mi ha supportato e mi ha aiutato nei momenti più difficili e mi ha servito anche bene. Ecco, Gennaro, che effetto ti ha fatto giocare in uno stadio come il Dall'Ara oggi e che effetto ha fatto anche a tutti i tuoi compagni? È sicuramente un effetto importante, che fu sempre uno stadio di Serie A. Sono molto felice di aver giocato in questo stadio, però diciamo che poteva andare meglio. Ultima domanda, lasciando partire la partita di oggi, insomma, andata come è andata, secondo te qual è il segreto del vostro gruppo che vi ha permesso di arrivare fino in fondo, insomma, di stravincere il vostro Girone? Sì, è sicuramente il gruppo. Siamo sempre stati uniti dal primo giorno che ci siamo visti e è sicuramente questo che ha fatto la differenza e che ci ha fatto andare avanti anche in momenti più difficili, quando eravamo a meno 7 da Lazio e l'unione fa la forza.